Il giorno dell'Epifania Latina è cominciato nel segno della solidarietà. Appassionati, sportivi e semplici cittadini si sono dati appuntamento nella mattinata al campo Oscar Zonzin di Borgo Montello per dare vita ad una corsa di solidarietà. L'evento, intitolato Corriamo per Lucchetto, per ricordare il piccolo Luca scomparso all'età di soli sei mesi, è stato organizzato dalla Fitness Montello Running per raccogliere fondi a favore dell'associazione Miticon Ollus. Sono svariati anni che nel giorno della Befana vengono organizzate delle camminate, passeggiate, corsette tra amici di solidarietà a favore di varie associazioni che sono presenti nel territorio pontino. Quest'anno con il Fitness Montello abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione per questa associazione Lucchetto Sempre nel Cuore. La Miticon Ollus, che è legata all'associazione Lucchetto Sempre nel Cuore, nata in memoria di Luca De Vita, sostiene famiglie e bambini che sono affetti da malattie mitocondriali. Ringrazio ancora, ripeto, i partecipanti del Fitness Montello per questa giornata, i cui fondi verranno tramite la nostra associazione devoluti a un'altra associazione che si chiama Miticon Ollus. Questa associazione è di Roma, è a livello nazionale, è più grande di noi, hanno anche un comitato scientifico e hanno delle ricerche aperte sia al bambino Gesù che anche in altri ospedali, tipo ad esempio quello di Bari.